È una curiosità che in pochi oggi sanno, ma nel luogo dove adesso si trova la biblioteca del Seminario Vescovile di Arezzo transitò il sommo poeta Dante Alighieri. L'occasione arrivò dal cosiddetto conciliabolo dei fuoriusciti, che fu ospitato nell'antica cappella della Fraternita dei Chierici, al quale Dante partecipò appena esiliato da Firenze. La Fraternita dei Chierici nacque con sicurezza nella città di Arezzo prima dell'anno 1000 e la sua storia è tuttora documentata nella biblioteca del Seminario di Arezzo, con un fornito archivio di pergamene e documenti antichi. Alcuni protocolli, conservati con grande cura, risalgono addirittura al periodo che va dal 1260 al 1360. Ed anche la testimonianza del passaggio di Dante è raccolta proprio in alcuni di questi antichi documenti, come racconta Don Natale Gabrielli. Qui, in questo luogo antico, oggi è modernizzato, ma c'è stata la presenza di Dante Alighieri, perché quando ci furono i fuoriusciti di Firenze, tennero conciliabolo ad Arezzo nella Fraternita dei Chierici, quindi il luogo sacro, gli facevano i patti e la cappella. E qui il Dante, dopo che tanto dissero, ma non fecero niente, speravano una guerra di Arezzo contro Firenze per tornare a casa, ma non fu fatta. E uscì in quell'espressione, compagnia matta e scempia e botoli ringhiosi, gli aritini. Ma questa espressione mi permetto di spiegarla un po' meglio, ce la dice, non so se è il Buti o il Boccaccio, sono dei primi commentatori della commeglia. Non è tanto un'offesa, anzi quasi è un leggero in senso positivo. Lo stemma del comune di Arezzo, a tempi di Dante, non era il cavallo lampante, ma era un cinghiale grande con un cagnolino sotto i suoi piedi, no? E la scritta latina, sepe a cane non magno tenetur aper. Letto l'attivo, spesso un piccolo cane tiene a bada un grosso cinghiale, o al passivo, spesso da un piccolo cane tenuto a bada un grosso cinghiale. Dante ha visto questo stemma e ha tradotto, botolo ringhioso, per me riferimento al cagnolino che tiene a bada un cinghiale.